A dintro d'acqua si è tenuta una cerimonia denominata giornata dell'aeronautica. Si sono voluti ricordare tre piloti che persero la vita sulle montagne dintro d'acqua durante un volo di ricognizione dell'ottobre del 1951. Alla manifestazione hanno partecipato i figli del tenente pilota Heinrich Albise, alcuni sindaci del territorio e molti cittadini del centro Peligno. Il sindaco Cristian Colassante ci spiega i motivi della manifestazione. Questa è una stella dedicata ai tre piloti che cadono nel 1951 durante una ricognizione qui alle montagne dintro d'acqua. A ottobre sono stati 70 anni da questa caduta, purtroppo per via del Covid e tante altre problematiche abbiamo spostato alla prima occasione utile. Devo ringraziare principalmente l'aeronautica militare italiana e i loro componenti dintro d'acqua che ci hanno spronato e hanno collaborato al restauro del monumento e alla riuscita della manifestazione. Nonché i figli del tenente pilota Heinrich che ha perso la vita qui sulle montagne dintro d'acqua. Una corona è stata depositata accanto al monumento ai caduti, ubicato nella villa comunale, presente la banda dell'aeronautica che eseguite il silenzio fuori ordinanza. Più tardi in piazza Susi, proprio accanto alla casa comunale, si sono tenuti saluti delle autorità e i vari interventi, consegnati alcune pergamene. La manifestazione si è conclusa con un concerto della banda dell'aeronautica. Voglio invitare tutti, innanzitutto vi ringrazio, voglio invitare tutta la popolazione davanti al comune dove fatteremo il concerto della banda dell'aeronautica, i miei saluti e un po' di ringraziamenti. Colgo l'occasione però nel frattempo di ringraziare la presenza dei figli del tenente Endris che ci hanno onorato della loro presenza e devo dire anche un po' emozionati nel rivedere dopo tanto un monumento dedicato al loro padre che purtroppo l'ultima volta non era nelle condizioni che doveva essere. Adesso ci siamo riusciti a rimetterci mano grazie anche all'impegno del gruppo dell'aeronautica dentro d'acqua. Adesso a loro consegneremo una pergamena ricordo della manifestazione per gli altri invece i ringraziamenti e i saluti li effettueremo davanti al comune. Colgo anche l'occasione per ringraziare il sindaco di Bugnara che nonostante impegni a breve ci è venuto a fare visita. Grazie, grazie a tutti.